Tam Tam sui social network per trovare il molosso che ha azzannato e ucciso un cagnolino lungo il percorso della ciclopedonale dell'Ostiglia. I fatti risalgono lo scorso primo marzo verso le 17, così scrive la padrona di Spillo, il pincer che è stato azzannato da un pitbull lasciato libero. Spillo stava correndo ai confini del campo che circonda la casa in cui vive a ridosso della ciclopedonale nel comune di Santa Giustina in Colle. Improvvisamente è stato morso alla gola, dopo alcune ore di agonia è morto. Ora la padrona di Spillo ha lanciato un appello per cercare di individuare il responsabile.